Il ritratto ovale di Edgar Allan Poe Il castello, nel quale il mio domestico si era deciso di penetrare a viva forza, anziché permettermi, desplorevolmente ferito come io ero, di passare una notte all'aria aperta, era una di quelle costruzioni indecifrabile, miscuglio di grandezza e di melanconia, che hanno per sì lungo tempo innalzato le loro rocche e celse in mezzo agli appenini, tanto nella realtà quanto nell'immaginazione di Mr. Radcliffe. Secondo ogni apparenza, esso era stato abbandonato temporariamente e tutt'affatto di recente. Noi ci adattammo in una camera fra le più piccole e le meno riccamente ammobiliate, posta in una torre appartata dal fabbricato. La sua decorazione era ricca, ma rustica e cadente. Lungo i muri erano tese delle tappezzerie adorne di numerosi trofei araldici d'ogni forma, nonché di una quantità veramente prodigiosa di pitture moderne, in sontuose cornici dorate d'un gusto arabesco. Io provai tosto un vivo interesse, e la causa ne era forte il delirio che incominciava, per questi dipinti che erano affissi non solamente sulle pareti principali delle diverse camere, ma altresì in una sequela di anditi e corridoi che per la bizzarra architettura del castello dovevamo passare inevitabilmente, e crebbe tanto l'interesse, che ordinai a Pietro di chiudere le massicce imposte della camera, poiché ormai già nottava, di accendere un gran candelabro a più bracci collocato vicino al mio capezzale, e di alzare invece, quanto era possibile, le tende di velluto nero, guarnite di frange che circondavano il letto. Io desideravo tutto ciò, per poter almeno, quando non mi fosse dato di addormentarmi, consolarmi alternativamente nella contemplazione di quei dipinti, e nella lettura di un piccolo volume che io avevo trovato sull'origliere, che enunciava appunto il valore di essi, e ne conteniva la descrizione. L'ho lessi lungo tempo, assai lungo tempo, e contemplai tutto religiosamente, devotamente quasi, e le ore passarono rapidi e brillanti, direi così, tal che udì suonare la solenne ora della mezzanotte. La posizione del candelabro non mi garbava, e protendendo la mano con certa difficoltà, per non disturbare di soverchio il mio domestico addormentato, io lo collocai in maniera che i suoi raggi si proiettassero in modo completo sul libro. Ma questa operazione produsse un effetto assolutamente inatteso. I raggi delle molteplici candele, poiché ve ne erano molte, caddero allora sopra una nicchia, che trovavasi sulla parete, e che una colonna del letto aveva fino ad allora coperta d'un'ombra profonda, e mi apparve d'un tratto, in mezzo alla viva luce, un quadro che m'era da primo sfuggito all'esame. Era il ritratto d'una giovane, le cui forme già pronunciate accennavano a donna ormai fatta. Io gettai sul dipinto un rapido sguardo, e chiusi gli occhi. Il perché non lo compresi bene io stesso a tutta prima, ma nel mentre le mie pupille rimanevano appassate, analizzai rapidamente la ragione che mi obbligava quasi di rincorrere a tale espediente. Era questo un movimento involontario per guadagnar tempo e per pensare, per assicurarmi che la mia vista non mi aveva ingannato, per calmare, direi così, e preparare ad un tempo stesso il mio spirito a una contemplazione più pacata e sicura. Dopo alcuni istanti guardai di nuovo quel dipinto fissamente. Io non poteva allora più dubitare, quando anche lo avessi voluto, di distinguere ogni cosa assai nettamente. Già che il primo baleno di luce su quella tela aveva dissipato lo stupore da trasognato da cui i miei sensi erano invasi e mi aveva richiamato di improvviso alla vita reale. Il ritratto, io l'ho già detto, era quella di una giovane donna. Era una semplice testa, già che il collo e le spalle vi si intravedevano appena. Il tutto composto in quello stile che suol chiamarsi il linguaggio tecnico, stile da vignetta, vi era assai della maniera di Salli nelle teste di una predilezione. Il braccio, il seno e fino le ultime ciocche di capelli si fondevano in modo da sfuggire da ogni indagine, nell'ombra indefinita ma intensa che serviva di fondo all'insieme. La cornice era ovale, magnificamente dorata e foggiata ai rilievi sul gusto omoresco. Come opera d'arte non si poteva del resto trovare nulla di più ammirevoli di quel dipinto. Tuttavia, non dovevano essere né la perfetta esecuzione dell'artista, né l'immortale bellezza della fisionomia, che mi impressionarono così d'improvviso e sì fortemente ed io dovevo, per credere ancor meno che la mia immaginazione, non ancora ben risveglia, avesse preso quella testa per quella di una persona vivente. Allora, mi si affacciò senz'altro al pensiero che i dettagli del disegno, lo stile di vignetta e l'aspetto del quadro avrebbero bentosto dissipato una simile allucinazione, cosicché io sarei stato liberato repentinamente da ogni illusione. Nel mentre maturava tra me queste riflessioni, assai preoccupato, io restai mezzo seduto, mezzo sdraiato, più di un'ora forse, con gli occhi fissi in quel ritratto. A lungo andare però, sembrandomi di aver scoperto il vero segreto del suo effetto, mi lasciai ricadere sul letto. Io avevo indovinato che il fascino di quella pittura era un'impressione vitale, assolutamente adeguata alla vita stessa. Ciò che da prima mi aveva fatto trasalire, poi confuso, soggiogato e atterrito. Pieno di spavento profondo, misterioso, io ricollocai il candelabro alla sua ripristina posizione, ed essendomi così tolto dagli occhi la causa della mia violenta agitazione, cercai ansiosamente il volume che conteniva l'analisi di dipinti e la loro storia. Passando tosto al numero che disegnava il ritratto vale, io vi lessi allora lo strano e singolare racconto che segue. Era una giovinetta veramente d'una rara bellezza e che non era meno amabile di quel che fosse piena di giovialità e maledetta sia l'ora in cui essa vide il pittore. Innamorata di lui, divenne infine sua sposa. Egli, appassionato, studioso, austero e che aveva già trovato nell'arte la sua fidanzata, ella, una giovinetta non meno amabile che piena di gaezza, tutta luce e sorrisi e con le pazzie in capo di una giovine gaezza, innamorata alla follia di ogni cosa e non odiando che l'arte che era la sua rivale, nulla temendo forché la tavolozza e i pennelli e gli altri odiosi strumenti che la privavano dell'aspetto del suo adorato amante. Fu un ben terribile cosa per questa poveretta quando essa odì il pittore manifestare il desiderio di dipingere egli stesso e la sua giovane sposa. Ma essa era umile ed ubbidiente e posò quindi con dolcezza durante ben lunghe settimane nella tetra e più alta camera della torre ove la luce pioveva sulla bianca tela solamente da un'apertura del soffitto. Ma egli, il pittore, metteva ogni sua gloria in quel lavoro che progrediva di giorno in giorno di ora in ora. Ed era un uomo appassionato e strano e pensieroso che si perdeva in fantasticherie così che egli non voleva vedere come la luce che cadeva così lugubremente in quella torre isolata disseccava le fonti della salute ed ogni vigoria di spirito della sua amata la quale periva visibilmente agli occhi di tutti fuorché ai suoi. Ma essa sorrideva sempre e sempre senza muover lamento già che si accorgeva come il pittore che già aveva una gran fama provava un piacer vivo ed ardente nel suo compito e lavorava notte e giorno per ritrarre quella che l'amava tanto nonostante che si facesse di giorno in giorno più debole e languente. E in verità quanti contemplavano il ritratto parlavano a bassa voce della sua rassomiglianza come di una superba maraviglia e di una prova non meno grande della potenza del pittore che del suo profondo amore per quella che egli dipingeva simirabilmente ed ogni modo quasi prodigioso. Ma a lungo andare appressandosi il lavoro al suo compimento non fu più ammesso nella torre poiché il pittore divenuto demente quasi dall'ardore della sua opera staccava raramente gli occhi dalla tela nemmeno per guardare l'aspetto della sua amante ed egli non voleva vedere come i colori che stemprava sulla tela erano tolti dalle guance di quella che era seduta e posava presso di lui. e quando furono trascorse lunghe settimane e non restava ormai che ben poco a fare non l'altro che un ultimo tocco alle labbra e un tratto all'occhio lo spirito della giovane donna palpitò ancora un istante come l'ultimo guizzo della fiamma di una lampada. E allora il tocco fu dato e il tratto fu posto e per un momento il pittore si trattenne in estasi davanti il proprio quadro quel quadro che egli stesso aveva dipinto ma un momento appresso mentre egli stava tuttora contemplando presi a tremare si fe pallido in viso e come colpito di ripentino spavento gridando con voce fossente davvero che la vita è stessa egli si rivolse bruscamente per riguardare la sua amata essa era morta grazie a tutti